La presenza di confedilizia al congresso FIAIP è la conferma ennesima della grande vicinanza fra le nostre due organizzazioni sul piano dei rapporti, ma è anche la prova verso l'esterno del fatto che il settore immobiliare è uno e ha molte componenti, la proprietà immobiliare che noi rappresentiamo è strettamente collegata con gli operatori dell'immobiliare e fra questi importantissimi sono gli agenti, quindi un'ennesima conferma della vicinanza tra associazioni e della vicinanza e possibilità di interagire per fini comuni tra i nostri rappresentati.